Bene, ciao Riccardo, buona giornata a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Volevo quindi fare un po' il punto sulla situazione delle nostre squadre, che va abbastanza bene. È stato un fine settimana importantissimo, dove abbiamo giocato con i nostri senior il big match contro la capolista Valperice, che fino a questo momento era imbattuta, e siamo riusciti a fare un eccellentissimo risultato. Abbiamo battuto il capoclassifica per 36-20, quindi un risultato nettissimo, che la dice lunga, sulla prestazione dei nostri ragazzi. Sono stati tutti molto bravi, eccellenti, in particolare Marco Riceputi, che è stato il top scorer dell'incontro con Ottoletti. Però tutti hanno giocato, hanno saputo supplire a una gravissima assenza, che era quella di Alessio Dattis, il nostro miglior giocatore, che era squalificato dopo la partita col partito, che aveva subito questa sanzione. Quindi noi siamo adesso eforici e vogliamo andare avanti col vento in poppa, consci della nostra forza e consci del fatto che questo campionato adesso è veramente alla nostra portata. Buoni risultati anche nel settore giovanile, dove gli under 18 hanno battuto il mentone per 33-21, quindi confermandosi in testa alla classifica, e hanno quindi mantenuto questa loro leadership con agio. Non hanno giocato gli under 16, il loro incontro è stato rinviato a sabato prossimo contro la Faiance, un incontro del torneo di eccellenza, anche loro sono abbastanza lanciati dopo la prima vittoria contro il Mugen, nettissima, e invece ha giocato all'anno standard 14, che purtroppo ha subito la prima sconfitta nel loro gironcino contro una eccellente squadra del Gras, una squadra che secondo me è la migliore del girone, comunque noi abbiamo dovuto in scacco fino a qualche minuto dalla fine, fino a 7-8 minuti dalla fine, addirittura eravamo in vantaggio, poi abbiamo subito la loro rimonta e abbiamo perso 20-15. Eccellenti anche i nostri under 12, che comandano la classifica regionale, che hanno battuto l'Imperia nel concentramento di Bordighera per 23-3. Questo è tutto per la settimana, noi siamo molto fieri di tutto il nostro movimento. Ciao ciao!